ciao a tutti e bentornati nello spavillante canale analisa superstar bene è il terzo video identico che faccio nel senso che ne ho fatto uno il primissimo anno che avevo il canale ma credo che veramente tra i primissimi video uno poi dopo un annetto comunque non lo rifaccio da un bel po siccome ho fatto il tag delle borse della mia vita oggi faccio il tag utilissimo alla società moderna what's in my bag che in realtà guarda che qualche cosa che mi chiedono in tanti non sto scherzando mi chiedo home tour what's in my bag e poi altre cose ma what's in my bag me lo chiedono in tantissimi allora what's in my michael kors bag michael kors dice mia cognata michael kors io questa non ho idea del nome del modello di questa borsa mi ha regalata mio marito lo scorso nato per natale che non so assolutamente dove sono riuscita a ruminare qua davanti è una borsa per quanto mi riguarda particolarmente versatile io questa borsa la metto con tutto ho comprato quest'estate in un negozietto che si chiama amico in centro a palermo questo cuoricino quali di tbc è marca baci milano che ha cose molto carine però fa sia borse che piccoli oggetti ma mi piace tanto perché fa anche tipo servizi da tavola guarda cerca su facebook su internet si chiama baci spazio milano fa cose molto molto per me allora parliamo di cosa c'è in questa borsa siediti fatti un caffè perché è pesante perché mi porto dietro cose a tipo numero 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 gli occhiali da sole i miei occhiali da sole che non metto da un paio di giorni perché da un paio di giorni non metto io sono fortemente miota quindi ho bisogno delle lenti a contatto mi si è spezzata la lente a contatto e cosa che ho raccontato ampiamente nel blog che andrà online domenica mi si è spezzata la lente a contatto e quindi devo andare a comprare quindi io chiedi da sole poi per quanto mi riguarda è immancabile della mia borsa che poi proprio questa allora io sono una smemorata ho bisogno di scrivere le cose ho bisogno di prendere appunti chi mi conosce conosce i miei quadernetti le mie agendine le mie cose perché io ho bisogno di prendere appunti su tutto quanto perché uno me lo dimentico due se mi viene in mente qualche cosa devo appuntarle immediatamente per un progetto per un video per un lavoro devo prendere immediatamente l'appunto della cosa qua al mezzo ci sono pure biglietti da visita prendo appunti su tutto quanto questa è quella che viene con me da un po' di tempo comunque questa l'ho presa la tiger 2 euro questa penna me l'ha regalata grazie ciao mia cara poi ecco cominciamo le mamme hanno nella borsa carte di merendine e ciucci io ho la carta della merendina di lois perché c'è un negozio qua vicino che che vende mangini per animali lois ha capito che questo negozio vende ste merendine però non è giustamente lois a cognizione dei soldi noi centriamo sempre noi per se per noi centriamo sempre guardano è che dovrei riprendere che cosa fa poi questo che non l'ho ancora aperto mai l'ha lasciato mio suocero bezzedrex nasa decongestionant il bix così tra di noi a maragano poi non so se farle vedere pillole antiacido perché io ho problemi di stomaco dalla mattina alla sera e quindi queste sono le uniche che mi risolvono il problema ma poi sempre le mamme moderne hanno cose hanno pannolini per i bambini in borsa io i sacchetti della cacca di lois fietoso tutto questo peccano cerotto senti una tengo in mano che poi li rimetto qua ah ecco dove era Anna la mia amica sabato sera mi ha detto visa devi provare questo tè mi ha dato questo bustino che è servizio di limone a un zenzero e limone 10 euro più fattigli non lo provo è sempre il cerotto questo non sono 6 un mani due centesimi devi sapere che io non so perché la gente butta i soldi io quando trovo la moneta personal la prendo mi sento a cattona no perché io ho rispetto dei soldi mi da fastidio quando la gente butta i soldi e nelle taschine non c'ho più niente wait a moment che ti metto nelle taschine sacchetti cacca lois nelle altre taschine e allora profumino di zara ah ecco dov'era non sta anche io la briccolà amplified di mac e a proposito di rossetti infatti c'ho la borsettina questa my of course questa me l'ha regalata mia cognata dentro la quale ci sono le seguenti cose e allora mademoiselle di chanel cusco co shine dialog 64 e questo è ruby wu per forza ruby wu poi il primer mac e questo pennello di realtec mix che trovo a dire poco eccezionale li metto giusto nella bustina tra lato soldi in questa bustina trovo sempre soldi io ma com'è ma si riproducono la notte 60 centesimi oh scusami aspetta che vedo che ci sono c'è una carta da 50 euro mai 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 oh dai ci ho accansato i 60 centesimi oh discusa non possiamo fare aspettare ho il dentro la mia borsa la borsa dentro la borsa perché a me capita spesso di fermarmi al supermercato tornando a casa allora io non prendo mai i sacchetti io uso le borse io ho una bellissima borsa da spesa che si appiattisce diventa fantasie e mi arrivato a mia socia l'anni fa e ancora resiste soltanto che è ingombrante perché altra volta la taglia ho preso questa qui i junk food e la tengo sempre in borsa guarda io torno a casa vuoto la piego e lo infiedo dentro la borsa è abbastanza comoda perché mi porto il carrello dei vecchi ricorda io sono vecchia poi questo quel che rimane di di questo è un deodorante che però uso come profumo ecco il primo oggetto a random se non consideriamo una cosa di Lois il ventaglio sempre cose le mamme moderne hanno vabbè io ho il guinzaglio di Lois questo è quello di scorta che ho preso ieri perché poi l'ho ritrovato in macchina l'altro perché non l'ho trovata sicuramente l'ho dimenticata in macchina poi ho preso quello di scorta e poi l'ho messo l'altro e questo l'ho messo poi c'è una serie di spazzatura spazzatura sacchetto della frutta che non so perché me lo sono messo in borsa poi il portafoglio a me questo portafoglio non piace manco per niente è stato un regalo che mi è stato fatto non mi piace assolutamente mi piace perché è grande quindi a me piacciono i portafogli belli importanti diciamo sembro di ora devo mettere le monetine qui dentro non mi piace moltissimo a essere sincera però però lo tengo quindi questo è Guess letterine poi questo ok si è sorbicciato adesso lo tengo mi ero dimenticata di prenderlo le presenti dove si scrivono nome e cognome condo parti eh di Alitalia era all'aeroporto stavo accompagnando le persone e me ne sono presa uno perché sarei dovuta partire ma all'ultimo momento non se ne è fatto più niente carta vuota di Frisk che mi piacciono infatti non so niente che mi piace queste Frisk poi questo me l'hanno dato al Lidl ma i miei nipoti sono troppo piccoli questo me l'hanno dato un po' di tempo fa è un giocattolino ma i miei nipoti sono troppo piccoli per dargli questa cosetta è pronta pacco di fazzoletti vuoto numero della saloneria scontrino scontrino carta di Oils il resto è la carta della merendina di Oils pacchetto di fazzoletti vuoto numero 2 quello che rimane del pacchetto di Oils in allegria e in libertà due assorbenti guarda ultimo o non per ultimo perché ora mentre stavo levando la spazzatura che ho in mano nel frattempo poggio un attimo questa cosa qua e rimetto tutto in borsa tra cui il guinzaglio di emergenza di Oils l'ultima cosa che ti sto per mostrare eh guarda una cosa le risate che ci siamo fatti questa cosa perché parlavamo eravamo a cena con degli amici e parlavamo di una cosa in particolare parlavamo della manna sai cos'è la manna? comunque allora parlavamo della manna e Anna mia amica diceva ma sta manna fa schifo io l'ho provata a mangiare ma perchè l'hai mangiata? si no non andava mangiata andava sciolta e allora niente andò a finire guarda risate io l'ho troppo fatta molto strimentita ma ovviamente abbiamo parlato per circa otto ore di seguito aspetta che l'hai un po' da tutti se siete la spazzatura della mia borsa e qua c'è il resto e la spazzatura della mia borsa niente praticamente dentro la borsa ho questa confezione di manna di puro frassino l'avevo in borsa perchè la mia amica Anna mi ha detto ma guarda io ce l'ho della manna e me ne ha dato qualche confezione per provarla ma io non l'ho non la non la prendo da anni e ho questa confezione da un bel po' di tempo lui mi ha detto no guarda me l'hanno regalata ne avevo un bel po' e mi ha dato qualche confezione di questa dove sto facendo vedere una a uso campione ma in borsa ne ho altre quindi io cammino con la manna in borsa ma ti chiedo ah guarda scusami potevo fare il tè e ci scioglievo dentro la manna scusa a sto punto e va bene ok questo è what's in my bag tra cui la spazzatura e gli auricolari che però poi se lo so come si lava perchè non li uso più in macchina gli auricolari e quindi li uso per per ascoltare musica e li tengo in borsa perchè io in realtà spesso e volentieri cammino a piedi e quindi ascolto musica con gli auricolari come quando ero giovane solo che prima avevo le cuffie e un lettore cd tanto e camminavo con questo coso tipo così per non farlo muovere perchè non c'era l'antishock e saltavo il cd e camminavo così e quindi ah il cellulare mi sto registrando adesso perchè il cellulare per forza il cellulare e comunque ricapitolando praticamente io ho 60 centesimi 5 quindi 5 euro e 60 mi sento x numero di rossetti questo mese mangiamo rossetti va bene ciao e che le stelle siano con voi tu cosa hai nella tua borsa dai 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 se ti va se di iscriverlo qua eventualmente perchè non metti una foto lo metti sulla mia pagina facebook che è analisa la stella oppure trovi il link nel box info nella fan page condividi la foto di quello che è nella borsa dai ragazzi dai dai condividiamo le cose importanti della società ciao